Tutti in coda per fare il tampone e scoprire se si è infetti dal Covid. Si sono messi in fila i primi viaggiatori in transito nei porti di Livorno e Piombino e nelle stazioni di Pisa e Viareggio per eseguire il test molecolare gratuito messo a disposizione dalle ASL, come previsto dall'ordinanza regionale dello scorso 24 agosto. È possibile fare il test anche nelle stazioni di Firenze, Arezzo e Grosseto. A Pisa, nelle immagini che vedete, già alle 9 erano circa 30 le persone in coda davanti al mezzo della Croce Rossa, gli stand dove poter effettuare il tampone e biglietto alla mano saranno a regime dalle 8 alle 20. Al porto di Livorno, centinaia le macchine in coda con a bordo i viaggiatori sbarcati, soprattutto dalla Sardegna. Qui il test viene effettuato direttamente in auto con il metodo drive-thru dagli operatori dell'ASL. Il tampone non è obbligatorio ma volontario ed è gratuito per i residenti in Toscana e per i non residenti. Per evitare file che risiede in Toscana può prenotare il tampone entro le 24 ore dall'arrivo o della partenza tramite il sito della Regione Toscana in modo da avere un accesso programmato in una delle sedi distribuite su tutto il territorio regionale. Chi si sottopone al tampone deve rimanere nella propria abitazione fino alla comunicazione della risposta del test che avverrà entro le 24-36 ore successive.